Chiariamo il concetto di brand, perché le persone lo confondono con qualunque cosa e non ne comprendono quindi né l'importanza che riveste né che cosa è di conseguenza. Prima di cominciare però devi comprendere una cosa, ossia che il brand non è tutto, quindi non è che se hai un brand, se costruisci un brand, allora hai risolto tutti i problemi del mondo, assolutamente no, perché il brand fa parte di una cosa molto più grande che è la strategia di vendita. C'è questa grande strategia, questo insieme, dove all'interno un tassello di questa strategia è il brand. Con questo video voglio proprio farti capire che cosa è questo brand e l'importanza che ha magari per la tua azienda e come naturalmente può essere una svolta molto interessante all'interno di un'azienda. Ciao, io sono Alessandro De Luca, sono il creatore del brand, lo specialista dello zafferano e il co-creatore del sistema di marketing agricolo insieme alla mia ragazza, Valentina Ceretani, con la quale aiutiamo le persone proprio a creare delle strategie di vendita efficaci per la propria azienda, nelle quali quindi rientra anche ovviamente la creazione di un brand. Partiamo subito da cosa non è un brand, ok? Perché le persone spesso e volentieri lo confondono ad esempio con il logo, quindi con il marchio dell'azienda, quindi vediamo un marchio e quello là è il brand. Oppure lo confondono con il nome dell'azienda, quindi l'azienda tal dei tali ha questo nome e quindi quel nome è il brand. Il problema nasce nel momento in cui quindi ad esempio si identifica il marchio come il fatto che abbiamo creato un brand se abbiamo creato un logo, oppure se abbiamo dato un nome alla nostra azienda, ecco che quello lì è il brand. Questo qua è un problema, non è affatto così, perché il brand devi immaginarlo anche questo come una cassetta, come un insieme, ok? Dove all'interno si va a mettere il nome dell'azienda, il logo dell'azienda, la comunicazione aziendale, i valori aziendali, la mission aziendale, quindi una serie di cose che compongono quindi il brand. Branding significa quindi fare brand, quindi prendere uno ad uno tutte le caratteristiche che compongono un brand e costruirle in una strategia di vendita. Il brand nel suo complesso quindi determina ciò che le persone dicono della tua azienda, che cosa pensano della tua azienda, che cosa percepiscono in un secondo quando sentono il nome della tua azienda e per persone non intendo la nonna, la zia, il cugino, l'amico o il vicino, ok? Perché non si è costruito veramente un brand se soltanto le persone intorno a te sanno che sei l'azienda agricola Pinco Pallino e produci le mele e le pere, ok? In quel modo non hai costruito un brand. Un brand diventa tale quando una certa massa di persone, più o meno grande, non è quello importante, però costruisci un brand all'interno della testa di queste persone, quindi crei un posizionamento nella mente di queste persone. Ti faccio un esempio pratico per capire. Se io ovviamente ti parlo della mia azienda agricola dal quale poi ho creato un brand, che è lo specialista dello zafferano, si comprende molto facilmente che cosa vende lo specialista dello zafferano. Quindi essere ad esempio invece l'azienda agricola Il Poggiolo, che è il nome della mia azienda agricola, non permette di dare un brand nella testa delle persone, a meno che io non sia enorme subito appena nasco e quindi tutti conoscono poi l'azienda agricola Il Poggiolo che produce questo, questo e questo, ma non è così ovviamente, bisogna costruirlo col tempo. Il modo in cui comunichi, ad esempio la scrittura che utilizzi, il tipo di comunicazione proprio che vai a creare con il tuo potenziale cliente, con i tuoi clienti, anche quelli, anche tutta questa parte fa parte proprio del brand, ok? Quindi se vuoi creare un brand amorevole, ti faccio degli esempi, e però parli e comunichi in modo aggressivo, la cosa non torna assolutamente. Un esempio che faccio spesso è, un'azienda ad esempio di Bodyguard può comunicare in modo aggressivo, un'azienda che vende giochi per bambini non può farlo, ok? Questo tipo di comunicazione però va a costruire poi insieme al logo, al nome, ai valori, come dicevo e via dicendo, il brand. Per quanto riguarda i valori, ad esempio anche qua può sportarti degli esempi pratici, per esempio la nostra azienda Ecosystem BSC ha come valore fondamentale la formazione, ad esempio, che poi è anche quello che vendiamo. E perché lo vendiamo? Perché ci crediamo in primis, perché è ciò che ci ha portato a essere dove siamo oggi, perché è ciò in cui crediamo, è ciò che noi sappiamo può aiutare veramente le persone, non c'è altro, secondo noi, che può aiutare le persone come la formazione di qualità, formazione specifica per raggiungere risultati specifici. Crediamo nella sostenibilità, quindi un altro nostro valore importantissimo è la sostenibilità, sostenibilità non solo a livello ambientale, ma sostenibilità anche aziendale, quindi costruire delle strutture sostenibili nel tempo. Un altro nostro valore importantissimo è la consapevolezza, quindi vogliamo trasferire nelle persone consapevolezza di ciò che stanno facendo e di ciò che stanno apprendendo per imparare a costruire delle strategie di vendita, imparare a coltivare, ad esempio, in modo sostenibile e via dicendo. Crediamo inoltre nell'impegno, quindi l'impegno è un altro valore importantissimo, perché sappiamo che la formazione è la base, ma questa formazione poi va applicata e per applicarla c'è bisogno di impegno costante nel tempo. Non esistono bacchette magiche o robe del genere, quindi chiunque non creda, ad esempio, nell'impegno, ma vuole la bacchetta magica, non può, ad esempio, essere un nostro cliente. Quindi, di conseguenza, i valori del tuo brand vanno anche a determinare il tipo di clientela al quale poi ti stai rivolgendo. Quindi, tutti questi valori vanno a dare quella che è la direzione alla tua azienda, che è una cosa importantissima, soprattutto nel momento in cui c'è da prendere delle decisioni e ci possiamo basare su dei valori ben precisi che ci guidano e di conseguenza ti permette anche di sapere come comunicare, come creare la tua immagine di fronte al potenziale cliente, perché tu hai ben chiaro come deve essere questo tipo di cliente, che infatti il mercato è la cosa da cui si parte sempre e assolutamente. Quindi il brand ti permette anche di capire come comunicare e che cosa dire nella tua comunicazione. Come dicevo, quindi, azienda agricola Pinco Pallino non è un brand, è soltanto il nome assegnato alla tua azienda, ok? Di conseguenza, se hai magari tanti prodotti che devono andare in mercati diversi e via dicendo, non puoi creare azienda agricola Pinco Pallino e creare un brand per tutto. Magari c'è bisogno di diversificare questi brand, ovviamente queste sono tutte cose molto specifiche che facciamo all'interno dei percorsi perché c'è bisogno di uno studio approfondito per capire se è meglio fare un unico brand, se è bene farne di più e via dicendo. Il brand di conseguenza diventa ciò che ti farà conoscere all'interno del mercato e riconoscere un'altra volta, ad esempio, anche dai clienti che hai conquistato, perché, faccio un esempio, i clienti che hanno acquistato da me Zafferano, con l'azienda agricola, quindi con lo specialista dello Zafferano, quando pensano ad acquistare Zafferano, sicuramente gli verrà in mente lo specialista dello Zafferano. Oppure, faccio un esempio, se ti dico, pensa a una bibita gassata, zuccherata, ti viene in mente Coca-Cola, in primis, perché ha un brand fortissimo. Oppure, se ti dico bevanda energetica, ti viene in mente magari Red Bull. Perché? Perché la Red Bull è la Red Bull, quindi, ad esempio, prova a pensarci, anche nei discorsi tra amici, eccetera, eccetera. Perché scegli quella macchina? È perché quella macchina è quella macchina. Oppure, perché scegli quella marca di vestiti? È perché quei vestiti sono quei vestiti. Spesso e volentieri non c'è neanche una spiegazione logica, ma quel brand risiede nella mente delle persone che lo scelgono. Oggi, quindi, non avere un brand significa rimanere nella guerra di prezzo, rimanere nel muccio di concorrenti che non si distinguono dalla massa, rimanere a lamentarsi continuamente del fatto che le persone non comprano, l'agricoltura non rende, eccetera, eccetera, che sono tutte cose che derivano dal non comprendere come creare una strategia di vendita nel suo insieme, mettersi all'interno un brand e tutta un'altra serie di cose che vanno a comporre l'intera strategia. Perché una volta che si è creato, quindi, una struttura aziendale fatta bene, la guerra si esce tranquillamente dalla guerra dei prezzi, si esce dalle lamentele perché si sceglie il giusto target, quindi non ci si riferisce a tali persone che magari se gli si chiede un euro in più cominciano a lamentarsi e allora che comprino cose di scarso valore da un'altra parte, ma che non vengano da noi. Noi possiamo avere la consapevolezza di riuscire a creare tutto quello che serve, la struttura che serve per posizionarci nel giusto modo e andare a vendere al prezzo che noi sappiamo essere il prezzo che ci meritiamo assolutamente. Quindi oggi conoscere e applicare il branding e tutta la strategia di vendita all'interno di un'azienda è diventato praticamente un obbligo e lo diventerà sempre di più perché ci saranno sempre più concorrenti, quindi bisognerà essere sempre più bravi, sempre più aggiornati nel costruire strategie efficaci. Per approfondire tutti questi concetti qua sotto trovi sicuramente un link, quindi cliccaci perché almeno anche tu cominci ad apprendere tutto questo tipo di strategie, come si costruisce una strategia efficace, perché è importante, come potresti farlo per la tua azienda o il tuo progetto, quindi qualsiasi siano i prodotti o servizi che hai, perché un'altra cosa che mi sento dire spesso è eh no, per i miei prodotti non va bene perché non si può alzare il prezzo, oppure per i miei servizi non va bene, guardati intorno e questa cosa succede per ogni cosa, ad esempio anche per l'acqua, non si può vendere l'acqua più di un euro, assolutamente no, lo si può fare come, ci sono dimostrazioni ovunque, quindi se va bene per l'acqua va bene per qualsiasi tipo di prodotto o servizio. Cioè sta a noi avere la consapevolezza e l'impegno e la voglia di metterci impegno per costruire strategie efficaci che ci permettano di costruire aziende efficaci che ci permettano di vivere serenamente la nostra vita. Purtroppo che piaccia o meno questa è la realtà, quindi non possiamo uscire dalla realtà o dire che le cose dovrebbero essere, dobbiamo guardare le cose come sono e di conseguenza fare le azioni che servono per ottenere i nostri obiettivi. Noi come azienda siamo qui per fare formazione, per dirti le cose come stanno e le cose che funzionano, non le cose che piacerebbe sentire, ok? Spero che questo video ti sia stato d'aiuto, che ti abbia fatto comprendere un po' l'importanza del brand e di come capire che cosa è, quindi non fermarsi al nome, al logo e queste cose qua. Se ti piace uno video di questo genere, clicca qua sotto, metti mi piace, attiva la campanellina delle notifiche, iscriviti al canale e noi ci vediamo nel prossimo video. Grazie. Grazie.